In Reggio Calabria la situazione ha contrato Olivari, località torrente Menga, è diventato insospenibile. I cittadini ormai esausti denunciano pubblicamente l'insufficienza e l'inefficienza dell'amministrazione comunale riguardo la manutenzione delle strade, invase di buche e colmate da rifiuti di ogni genere. Da mesi i residenti attendono un intervento irrisolutivo da parte dell'autorità che avevano promesso di stimolazione della strada. Sono solo parole, afferma un cittadino visibilmente frustato, ci hanno fatto sperare, ma la realtà è ben diversa di ogni giorno. Dobbiamo affrontare disagi enormi e rischiando per la nostra sicurezza. Il contrato Olivari è inferiore, torrente Menga. Questo può vedere bene lei le situazioni in cui ci troviamo, non da ora ma da dieci anni, che è sempre peggio. Sono venute un sacco di persone a fare promesse, ma non abbiamo visto mai un intervento in tutti questi anni. Anzi, posso solo dire una cosa, che ultimamente erano venuti a dirci che i lavori inizieranno a presto. Presto mi sono passati mesi e ancora non c'è visto nulla. Io voglio fare solo una domanda al sindaco, al vice sindaco Brunetti e al delegato Barreta. Se loro farebbero passare i propri figli o le proprie famiglie per andare a scuola o lavorare in queste condizioni. Io solo questo chiedo. Le ultime piogge di questi giorni ancora? Io mi trovo qua, non per i miei genitori, perché io vivo fuori, diciamo a Calanna. Però i miei genitori anche si trovano a vivere a 84 anni con queste strade dissestate. Con le ultime piogge che ci sono state ancora di peggio? Sì, là sopra dove c'è il forno, il bar, ogni minima pioggia si allaga sempre. Quindi io chiedo solo un intervento immediato. Ci sono state molte sollecitazioni ai vigili urbani, forse dell'ordine, anche i miei vicini. Ma proprio nessuno, nessuno proprio nessuno. Anzi, c'è un signore che abita qui, che ci permette lui di passare perché trattoppa le buche come può. Io vi ringrazio per quello che potete fare. Grazie, grazie. Grazie a tutti.